Per offrire un conforto materiale ma anche e soprattutto morale è stato istituito presso la sede delle Acli della provincia di Chieti in piazza dei Templi Romani uno sportello di ascolto per i cittadini ucraini con l'obiettivo di creare un'interfaccia tra le istituzioni e i servizi di assistenza delle Acli, come spiegato da Giulio Totaro, presidente delle Acli della provincia di Chieti. Quali sono i servizi che offrite presso questo punto d'ascolto? Noi offriamo generalmente gli stessi servizi che offre il nostro patronato, ossia dei servizi di assistenza e dei servizi di conforto, di far sentire la vicinanza di tutti noi verso queste persone che si trovano a vivere un momento di criticità. Le persone che vengono da noi normalmente sono le colfe, cioè persone che già conoscono comunque la nostra associazione, i nostri servizi e ci chiedono vicinanza. Ci sono anche tanti italiani che vengono a offrire la loro solidarietà, il loro tempo, abbiamo visto anche due assistenti sociali che questa mattina sono venuti presso questo punto di ascolto per offrire la propria professionalità. I cittadini italiani danno la loro disponibilità come volontari e proprio il nostro compito è il compito specifico dell'assistenza sociale. Questo noi dobbiamo cercare di dare e diamo a questo popolo. Già attivo dal 28 febbraio, il punto di ascolto per i cittadini ucraini è operativo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e resterà aperto fino alla fine della crisi in atto. A gestirlo sono Mario Antonucci, Giorgia Gentile e Caterina Lobato. Noi sostanzialmente offriamo principalmente il nostro tempo per ascoltare quelli che sono i disagi che stanno ricevendo, di cui stanno soffrendo i cittadini ucraini. Il nostro aiuto principale che possiamo dare alle persone innanzitutto è creare una rete, una rete non solo tra i cittadini ucraini che sono qui sul territorio di Chieti, ma anche una rete che coinvolga anche le persone italiane che sono disposte ad aiutare. La richiesta maggiore è quella di spedire medicinali, cibo, abbigliamenti, cose di prima necessità, per cui potremmo prendere le acli come punto di raccolta per poter mandare pacchi in Ucraina.